Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Andiamo a fare un aggiornamento di quelle che sono le situazioni cicliche, la situazione su Bitcoin, ma a parte questo che faremo in maniera abbastanza veloce, volevo farvi vedere due grafici. Il primo è un grafico relativo alla dominance, ragazzi, e a quello che sta facendo perché è importante andare ad analizzarla. Oggi ha toccato per la prima volta la dominance di Bitcoin un nuovo massimo negli ultimi due mesi. Quindi Bitcoin dimostra forza contro le altcoin. Cosa sta succedendo? Questo spesso nei mercati è stato anche sintomo di pericolo perché poi solitamente quando Bitcoin sale rispetto alle altcoin è perché molto spesso si spostano capitali su Bitcoin perché è meno volatile. Quindi insomma si ha un po' di paura. Non è secondo me questo il caso, lo andiamo a vedere in questo video. Poi vi faccio vedere a uno piccolo grafico per farvi vedere anche come il prezzo del mercato in realtà è stabilizzato su dei livelli molto importanti. I livelli degli ultimi 12 mesi, un prezzo medio di equilibrio degli investitori degli ultimi 12 mesi e poi Dulcis in fondo vi faccio vedere la media sulla quale Bitcoin sta giocando negli ultimi due mesi che guardate un po' è una media che vi ho già mostrato sul canale qualche mese fa. Va bene. Allora prima di andare avanti come sempre vi chiedo di iscrivervi ragazzi al canale se ancora non l'avete fatto e poi lasciatemi mi piace così mi date una mano anche a sudare un po' di meno in questo caldo a foso di questi ultimi mesi. Volevo poi fare una piccola precisazione. Allora negli scorsi commenti un utente mi ha chiesto Mauro perché non parli mai di investimenti per lungo periodo ma parli solo di trading sul canale. Allora non è in realtà così perché se fai un po' riferimento ad alcuni video ho parlato anche lo scorso anno di target price per quanto riguarda Bitcoin ad esempio per lo scorso anno sono stato uno dei pochi che ha individuato la fascia dei 67 mila dollari come zona massima di Bitcoin. Non pensavo ovviamente ragazzi essere così preciso neanche io altrimenti avrei fatto i milioni però alla fine insomma poi quando si analizzano bene i dati si ottengono anche grandi risultati da questo punto di vista. Però voglio rispondere a questa domanda perché è una domanda molto importante non posso farci un video di YouTube perché comunque non verrebbe un video da mettere sul canale ma risponderò sul mio canale Telegram ragazzi a questa domanda qui. Farò delle storie dove rispondo esattamente a quello che mi ha detto e mi ha chiesto l'utente perché la ritengo una cosa molto interessante at tradingon.it il canale. Allora andiamo a noi primo grafico che andiamo a vedere oggi è quello della dominanza di BTC. Guardate che cosa sta facendo oggi nuovo massimo che era stato addirittura precedentemente toccato più o meno il 17 di maggio quindi proprio durante il famoso crash 48 e 69% oggi abbiamo toccato 49%. Allora siamo su un doppio massimo però non è questo quello che volevo farvi vedere quanto il fatto che se vi ricordate io sto seguendo anche una struttura ciclica sulla dominanza dei Bitcoin. Questa struttura ciclica è una struttura che ha indicato una dominanza con un trend annuale al ribasso cioè la dominanza in questo caso ha un ciclo annuale ribassista di Bitcoin ragazzi. Cosa significa? Significa che il mercato crypto può ancora dimostrare forza se questa struttura ciclica verrà mantenuta dal mercato e quindi se in questo punto diminuisce il mercato il mercato non ha fatto un troncamento diciamo di cicli superiori. Ora essendo che sto analizzando non prezzi di uno strumento finanziario bensì un indicatore derivato di una market cap e essendo che lo stiamo analizzando ragazzi da pochissimo tempo perché precedentemente il grafico della dominanza guardate un po' com'era. Quindi insomma ha poco storico. È chiaro che fa riferimento a più o meno 3-4 anni questo tipo di grafico perché lo stiamo analizzando da generale 2018. va bene analizzarlo però mettete in conto che potrebbero esserci delle anomalie abbastanza evidenti quindi quello che stiamo dicendo qui è una mia idea ragazzi non seguitemi come sempre fate i compiti a casa non do consigli finanziari eccetera. Però la mia idea è che questa struttura ciclica annuale di bitcoin della dominanza sia ribassista e quindi come vi avevo spiegato anche in un video mi attendevo un rimbalzo in questa fase come zona di metà ciclo annuale. Questo sarebbe un semestrale un ciclo semestrale sul criptovalute per poi andare a chiudere definitivamente questo annuale con un doppio minimo un minimo inferiore al precedente ed in questa gamba le altcoin potrebbero andare a fare i numeri. Ci siamo arrivati? Ancora no perché il segnale della dominanza è su base settimanale intanto quindi questo che vedete sono delle settimane non ha dato alcun segnale di inversione. La dominanza di bitcoin resta nel medio e nel breve periodo al rialzo dai minimi toccati a 40. C'è questa zona che avevo disegnato come un'eventuale zona di arrivo resta ancora valida ma la media mobile per esempio che sto usando in questo caso a 26 settimane cioè la media mobile a 6 mesi è scesa quindi io quest'area me la riporto giù perché era fatta precedentemente e questa media mobile potrebbe subire un touch dal mercato e segna 52% di dominanza. È molto importante l'equilibrio bitcoin e th per questo indicatore quindi è anche vero che a parte che th è rientrato in quello che era la nostra banda di oscillazione vi ricordate 0.07 è arrivato lì e poi è iniziato ad oscillare e ce l'aspettavamo insomma ne avevamo parlato che il trend rispetto a bitcoin si sarebbe messo in barra di congestione così è stato però da un punto di vista di attesa sulla dominanza potremmo ancora assistere a una fase di forza di bitcoin e leggera debolezza di th rispetto a bitcoin quindi non vuol dire che th crolli però possa lasciare sul campo un po' di punti di dominanza ce ne servono tre per essere precisi per arrivare in quell'area lì non è moltissimo quindi è molto effattibile anche perché poi ci sono comunque le altre altcoin che magari potrebbero subire un po' l'impatto di bitcoin quindi dominanza è un indicatore che ci dà anche una direzionalità di questo movimento ed è conforme, coerente alla view che il mercato possa ancora andare a spingere tra le altre cose dove va a finire questo ciclo annuale ragazzi allora è un po' vario perché qui avevamo 450 giorni, 520 qui anche se lo posizioniamo intorno ai 480, 460 insomma una media tra questi due cicli precedenti se ne va a cadere a dicembre 2021 quindi tecnicamente da questo grafico derivato potremmo anche avere un'idea che i massimi di periodo anche delle altcoin potrebbero avvenire a dicembre del 2021 allora è interessante però a me quello che interessa ragionare su questo grafico è di andare a cercare di capire quando questo grafico invertirà perché secondo me dall'in poi prendere posizione su alcune altcoin potrebbe essere una cosa estremamente ghiotta passiamo al secondo grafico che volevo farvi vedere questo è un po' più free ragazzi allora guardatelo qui allora questo è il costo di investimento di tutti gli investitori degli ultimi 12 mesi che hanno un prezzo medio più o meno che viene definito price floor intorno a 37.000 dollari e l'attuale prezzo oscilla esattamente intorno a questa cifra cosa ci dice questo grafico cosa ci dice questa informazione ragazzi allora è molto molto semplice ci dice che i mercati nell'ultimo periodo si sono andati a equilibrare intorno al prezzo medio di equilibrio degli investitori degli ultimi 12 mesi questo è un altro dato anche di salute del mercato e soprattutto anche un po' di maturità c'è anche da dire che i mercati nell'ultimi giorni hanno iniziato un po' di fasi di volatilità che sembrerebbe anche tra l'altro confermata dalla volatilità implicita delle opzioni ma magari ne parleremo nei prossimi nei prossimi video però questo grafico mi è piaciuto tanto e volevo farvelo vedere proprio per questo motivo perché indica che a volte queste fasi di struttura di intermedie di barra di congestione non sono altro che dei punti di equilibrio che il mercato raggiunge tra domanda e offerta e poi si stabilizza come tecnicamente dovrebbe essere perché il mercato ha un trend da un punto A a un punto B solo quando il prezzo è sbagliato cioè in pratica quando c'è stato un errore oppure c'è un'innovazione c'è un intervento esterno che fa modificare le strutture di equilibrio domande e offerte e quindi il prezzo va a modificarsi nel momento in cui invece il prezzo raggiunge una sua fase di equilibrio che dura anche un po' in questo caso sono due mesi e mezzo di prezzo di equilibrio significa che il mercato è in salute cioè ha raggiunto un livello in cui quel prezzo è valido poi se abbiano uno shock nel positivo il prezzo dovrebbe salire in negativo il prezzo dovrebbe scendere però è interessante andare a capire come a volte queste fasi non sono nei disastri ma semplicemente degli atteggiamenti corretti di mercato che va a mantenere diciamo un suo livello di prezzo e di stabilità va bene allora arriviamo al dulcis in fundo il grafico quale media mobile sta seguendo bitcoin negli ultimi mesi ragazzi adesso vi faccio sorridere perché questa è la mia media mobile è quella che vi ho portato quando tutti analizzavano il death cross del mercato sulla media mobile a 200 periodi e io vi ho spiegato in quel video ragazzi qualcuno di voi se lo ricorda andatevelo a vedere anzi ve lo metto sulla mia testa se riesco a trovarlo più o meno il video dove vi spiegavo come andrebbe calcolata questa media che non è una media a 200 bensì a 274 giorni perché? perché bitcoin è esattamente un strumento finanziario aperto always 24 e 7 su 7 quindi andare a calcolare una media a 200 era sbagliata perché la media corretta dei prezzi di bitcoin non dei futures infatti la media a 200 sui futures è identica a questa ragazzi ok? allora non dei futures che invece sono chiusi sabato e domenica ma dei prezzi spot di bitcoin va calcolata a 274 guardate come il mercato si è appoggiato in queste fasi di ribasso intorno al livello della media a 274 soprattutto una volta breccata al ribasso l'ha usata anche come livello di resistenza quindi qui è stato un livello di supporto per tutto questo tempo quindi parliamo di oltre un mese e mezzo poi l'ha breccata verso il basso ed è stato un livello di resistenza perché è normale che sia così in quanto questa media era una media in cui il mercato stava tentando di girarci intorno se non che ragazzi bitcoin ha fatto due cose bellissime prima ha testato questa media poi è iniziato a scendere vertiginosamente a dire ok io me ne vado verso il basso ho invertito il trend quindi pericolosissimo ma qui ha trovato un altro livello di supporto tale per cui il mercato si è riversato con prepotenza al di sopra della media a 274 giorni e ieri proprio ieri ha fatto il break della media ora una giornata non fa diciamo la differenza perché i mercati oscillano intorno a queste medie di lungo periodo però significa già qualcosa significa che il mercato sta tentando un'inversione rispetto alla precedente fase molto rilevante è anche vero che vedete testa questa zona 41.200 41.42 perché è una zona come vi spiegavo nel precedente video stra importante però dobbiamo anche capire ragazzi ok che facciamo andiamo a vedere che il mercato brecca questa zona qui e poi diciamo ha invertito il trend sì sicuramente se brecca quella zona poi ciclo annuale sicuramente è stato chiuso sul minimo del secondo me del mese di luglio proprio da qui ragazzi ok io lo considererò da qui però poi avremmo modo di parlarne ma se non lo fa ancora non abbiamo notizie su questa cosa però cosa succede se brecca questo livello ragazzi succede che se ne va subito in spike al rialzo perché è un'informazione visibile a tutti quindi se bitcoin va a tentare un break con close daily sopra 42.000 circa 41.600 42.000 e ci chiude sopra poi ragazzi avviene la cosiddetta FOMO tutti entrano perché vedono questo break e vedono anche che si riposiziona sopra la media 274 in maniera molto importante quindi da lì in poi il trend ritorna assolutamente rialzista anche nel medio lungo oltre che il breve che già è rialzista nel breve a quel punto tutti si posizionerebbero il mercato farebbe un super pump sicuramente di almeno 5-6 punti percentuali quindi bisogna prendere posizione prima essere trader e capire come fare ecco perché ho pubblicato anche la storia precedente quando il mio trading system entrano notte è entrato proprio salvandomi da questa situazione ma aveva perso precedentemente quindi deve recuperare strada e un po' diciamo pareggiano con queste situazioni i sistemi di trading automatizzato però mi fa entrare a prezzi buoni quindi media a 274 è la media che bitcoin sta utilizzando guardate un po' e poi c'è questo livello chiave 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 di resistenza cosa state facendo voi mi avete mandato una serie di portafogli sulle vostre ai criptovalute sto preparando il video non mi sono dimenticato ma una cosa ve la dico già adesso poi chiudiamo anche il video ragazzi avete fatto dei portafogli strafighi cioè io pensavo di trovarmi dei portafogli anche pieni di errori invece sul canale ci state state seguendo alla lettera anche quello che vi dico quello che vi spiego e avete dei portafogli anche estremamente equilibrati quindi intanto io vi faccio un applauso perché sono contentissimo di quello che mi avete mandato poi ovviamente andando nel dettaglio sceglierò i portafogli più simpatici anche e quelli più intelligenti dove fare questo video quindi molto bello questo esperimento spero di fare il video tra l'altro anche in questa settimana va bene io vi saluto fatemi sapere come sempre cosa state facendo voi siete eroghi su bitcoin avete atteso state attendendo vi è scappato questo trend confrontiamoci nei commenti è fondamentale su instagram invece rispondo a commento che mi ha messo un po' una pulce nell'orecchio perché non parlo di investimento che poi non è del tutto vero e parlo solo di trading va bene ciao a tutti ciao a tutti